Buongiorno a tutti chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Allora questa sera cominciamo un discorso della contemplazione, cominciamo, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già portato avanti più volte sì, però iniziamo diciamo così in maniera organica. Il discorso che vi ho fatto oggi a proposito di Marte vi ricordo che lo troverete prossimamente in questi giorni su internet, per cui andando in www.federazionepagana.it trovate il discorso che ho fatto oggi e tutti gli altri discorsi, per esempio ho messo tutta una serie di testi anche in relazione ai Vicca, una parte dei Vicca, non tutti, ho messo tutti i corgioli dello Stragone, ho messo tutti i testi antichi dal commento al papiro di D'Arveni, al commento alla teogonia di Esiodo, al discorso sull'escatologia orfica, al discorso sul mito, tutta una serie di lavori, per esempio anche Tommaso Didimo, l'ultimo Stragone Pagano, l'ho messo sempre sul sito www.federazionepagana.it che potete scaricare centinaia e centinaia di pagine, ci sono anche i riti che teniamo presso il Bosco Sacro, c'è anche la nostra partecipazione alla manifestazione dei Veneti fatta a Cittadella, per esempio, dove ho messo numerose fotografie, ci sono un po' tutto su quel sito, su quel sito potete praticamente scaricarvi tutto quello che c'è, molte cose vengono caricate, altre cose stiamo caricando, naturalmente il tempo è tiranno, è quello che è, avete sentito la stupida oggi che ha telefonato e dice vai a lavorare, beh effettivamente io faccio il turnista in fonderia a 5 turni, per cui non ho né sabato né domenica né feste e ho una turnistica in continua rotazione, mi sta bene perché è un lavoro che mi permette di essere qui in radio, fate conto che fra il mese di ottobre, novembre e dicembre mi permette di essere sempre presente il giovedì, meno che due giovedì che sarò coperto chiaramente da Francesco, per cui fare il turnista in fonderia è un lavoro pesante che però mi permette di continuare a fare le trasmissioni radiofoniche, perché ho scelto chiaramente di fare un lavoro, in questo caso l'ho trovato come turnista in fonderia a 50 anni, mettere a posto il fisico per riuscire a sopportare un lavoro così pesante, piuttosto che fare altre cose, ma mi va benissimo perché torno a ripetere, il turnista, fare il turnista mi permette di essere presente in radio, e sono molto contento della cosa, però chiaramente il tempo è quello che è, scrivere i testi, mettere in internet, preparare le pagine web, preparare i link, fare in modo che le cose siano poste, chiaramente porta via lavoro, porta via impegno, porta via fatica, fatica che dedico comunque volentieri. Bene, il discorso di cui parliamo adesso è il discorso sulla contemplazione. La contemplazione fu un dibattito che abbiamo tenuto sempre qui a Radiogamma e lo tenemmo anche a Marostica, e da oggi comincerò a farvi la contemplazione in maniera organica. Contemplazione è il secondo elemento della costruzione dell'individuo nella natura. Altri elementi della costruzione dell'individuo nella natura, vi ho parlato della meditazione, e dopo la contemplazione vi farò il discorso sulle correnti vegetative. La contemplazione è la tecnica mediante la quale l'individuo modificando se stesso incontra gli dèi e il loro agire nel mondo che lo circonda. L'essere umano agisce nella ragione, però la costringe ad accogliere il nuovo, aprendo un canale intuitivo col mondo che lo circonda. E a questo proposito della contemplazione c'è tutto un discorso da fare a proposito della divinazione. Però è un discorso che sto mettendo a punto in questo momento, in questo periodo, e penso che il discorso sulla divinazione sarà un discorso che terrabanco nei prossimi mesi, perché penso di lavorarci, lo so, e molti pagani mi rinfacciano che inizio molti lavori e molti non li porto a termine. Non so neanche io cosa farci, cioè sono costretto a rincorrere un po' tutto e darmi da fare un po' per tutto. A volte sono preso da certe cose, altre volte da altri, altre volte ho intuizioni su alcune cose che ritengo importanti, dopodiché cambiano, si modificano, e anch'io sono costretto un po' ad adattarmi a seconda di quello che incontro. E fa parte della vita, tutto sommato. Però quando riesco a concludere dei lavori li metto anche in internet, li pubblico, ne parlo per radio. Pertanto seguite pure le trasmissioni, vedrete che i discorsi completi verranno fatti, anche se un po' alla volta. Con la sospensione del dialogo interno abbiamo liberato l'attenzione dalla gabbia delle parole. Parole che giustificano o giudicano quanto tocca i nostri sensi. Ci siamo liberati dai concetti ripetitivi, ripetizione della descrizione mediante parole. Ci siamo liberati dalle ossessioni della ragione, descrizione delle ragioni, per cui ci comportiamo in quel modo al fine di giustificare e delimitare la manifestazione delle nostre tensioni soggettive. La ragione, ora compreso, che l'individuo la può sospendere. La ragione reagisce a questa possibilità di essere sospesa del controllo della persona e tende a trasmettere delle sensazioni all'individuo ogni volta che l'individuo minaccia di sospenderla. Vediamo un attimo cosa la ragione trasmette all'individuo. Timore o panico di perdere le certezze soggettive acquisite. Allora, ripeto un attimino cosa trasmette la ragione all'individuo. Il primo punto è il timore o panico di perdere le certezze soggettive acquisite. Voi avete sentito, per esempio, la persona che ha telefonato oggi dicendo «Voglio lavorare invece di dire queste cose più o meno!» Ebbene, questa è una manifestazione di timore e di panico di perdere le certezze soggettive acquisite. In pratica, quella persona sa perfettamente che io ho ragione, cioè nel senso che manifesto delle ragioni sufficienti e delle ragioni che sono funzionali alla sua esistenza, però ne ha paura. Ed è esattamente quello che avviene attraverso il condizionamento educazionale che i cattolici impongono sulle persone. Quando io parlo a questa radio, le persone che mi ascoltano capiscono le parole che dico, solo che quelle parole nella loro mente suonano come un attentato alla propria ragione. Cioè la loro ragione si è stratificata e si è solidificata sopra il condizionamento educazionale che queste persone hanno ricevuta. Queste persone hanno ricevuto un condizionamento educazionale, una vera e propria manipolazione mentale che gli dice «il Dio dei cristiani che macella tutte quelle persone indifese è buono». Ora, queste persone non mettono l'accento sulle persone che vengono macellate, ma mettono l'accento e la loro attenzione sul fatto che quel Dio è buono. Quando qualcuno gli dice «come faccio io?» Guarda che il fatto che questo criminale afferma di macellare tutte le persone è un atto di malvagità, è un atto di perversione, e queste persone vengono prese dal timor panico, hanno paura. Come? Per tutta la vita ho pensato che il Dio fosse buono, eppure sapevano che quel Dio era stato il protagonista del massacro di milioni di persone gratuitamente, così, per il suo piacere, non perché avesse dei problemi particolari. si divertiva a macellare le persone, a macellare i primogeniti, i ragazzini. E queste persone non gli è passato nemmeno per l'anticamera del cervello che una simile azione è un'azione malvagia, perversa, cattiva, contraria ai nostri principi sociali. E allora queste persone vengono prese dal timore, dalla paura. Come? Io ho pensato che Dio fosse buono, e tu mi dici che è cattivo. Sì, ma guarda che il tuo Dio si vanta di aver macellato tutta l'umanità con il diluvio universale, per le proprie fisime e per i propri pruriti. Come puoi tu considerare quel Dio buono quando Lui si vanta di aver macellato tutta l'umanità e minaccia te col castigo eterno? Cioè, come puoi pensare a una cosa del genere? E come puoi pensare quando la società civile fa proprio delle leggi e dei provvedimenti giuridici per riaffermare il diritto del Dio padrone di macellare le persone indifese? Come puoi dirmi che è buono? E allora queste persone sono colte dal timore, hanno paura. Ed è ciò che succede quando alla ragione si presentano degli elementi che non sono in sintonia col proprio divenuto e con la manipolazione mentale dalla quale lei è sorta. Per cui timor panico, paura di perdere le certezze soggettive acquisite. Questo timore si manifesta sotto forma di ansia alla quale l'individuo tenderà a rispondere ripristinando il controllo della ragione nel manifestare le sue tensioni. Oppure, vivendo lo stato ansioso come un momento attraverso il quale caricare la propria progettualità nel manifestare le proprie tensioni. Se la ragione riprende il controllo della manifestazione delle tensioni dell'individuo, quando quelle tensioni sfuggono al bagaglio descrittivo della ragione, questa ricorre all'immaginazione, evocando degli oggetti immaginati e quella è causa delle tensioni Dio padrone, il demonio, gli angeli, eccetera, eccetera. Nei casi più gravi di conflittualità nell'individuo, fra necessità di esprimersi delle tensioni e necessità del controllo della ragione, si manifestano ossessioni e fobie. In pratica nasce con la vera e propria malattia mentale che è il prodotto dell'educazione cristiana. La manipolazione mentale che i cristiani fanno sui bambini che loro chiamano educazione cristiana non fa altro che costruire delle persone malate, delle persone fobiche che affrontano in quei termini la loro vita. Ed è di una gravità immane. Superato questo momento che coincide con una crisi psicologica di un individuo, subentra un bisogno di accettazione prima delle proprie tensioni soggettive e di ricerca poi per dare nuove risposte e nuove modalità espressive alle tensioni e ai bisogni dell'individuo. La ragione si dilata e si espande. Cioè quando una persona dice ma forse il Dio dei cristiani non è proprio buono e i cristiani me l'hanno messa in quel posto, mi hanno imbrogliato, mi hanno truffato, quando una persona riesce a realizzare questo, cosa succede? Succede che la sua ragione, dopo aver scaricato le sue ansie sulla persona, si arrende e dice va bene, mi ristrutturo, prendo atto che il Dio dei cristiani è un malvagio, è un criminale. E allora cerco di ricostruirmi come ragione partendo dai nuovi dati che tu individuo mi hai imposto. E allora comincia una ristrutturazione della ragione. Con la meditazione si è da un lato fornito una soluzione alla ragione, si è rallentato il flusso delle parole, ma il concetto, l'oggetto o il meccanismo viene sempre pensato, dall'altro lato l'attenzione all'interno della ragione viene liberata dal caos delle parole ossessive e dai concetti ripetitivi e permette soluzioni diverse da quelle emotivamente imposte dalla ragione. La ragione, attraverso la meditazione, viene modificata attraverso la volontà del soggetto applicata all'interno della meditazione. Con la contemplazione spostiamo l'attenzione sugli oggetti esterni. Attenzione! Contemplare non è guardare e osservare. Contemplare non è fissare e ammirare. Contemplare non è estasiarsi o adorare. Ognuna di queste cose non è contemplazione. La contemplazione è una manifestazione di volontà di un individuo attraverso l'uso dei sensi relativi ad un oggetto che pertanto ricade sotto i sensi tale da permettere 1. All'oggetto di contemplare il contemplatore 2. La lettura, mediante l'attenzione, di fenomeni inusuali dell'oggetto al fine di far emergere l'intuizione soggettiva permettendo a questa di inserirsi nel descritto della ragione o di modificare il descritto della ragione i cosiddetti scoppi intuitivi. Esistono persone che contemplano naturalmente o naturalmente sono portate o per attitudine o per abitudine a contemplare l'oggetto prima di descriverlo. Quando queste persone lo fanno abitualmente nei confronti degli esseri umani si dice che queste persone sanno ascoltare. Esistono persone talmente rigide da sviluppare tensioni e paure fino al panico quando l'oggetto che guardano non rientra nel loro descritto. Si dice spesso che queste persone sono piene di sé. Quando l'oggetto contemplato ci contempla quando esprime nei nostri confronti una volontà soggettiva quando il soggetto contemplato vive attraverso la manifestazione della sua volontà quando il soggetto si fa un dio espandendosi nella sua oggettività quando noi rientriamo negli interessi delle sue trasformazioni. Si contempla uno bloccando il dialogo interno mettendo attenzione a bloccare il dialogo interno ma a non bloccare i sensi e l'arrivo dei fenomeni attraverso il senso col quale si è deciso di contemplare. Quando i sensi percepiscono quanto i sensi percepiscono giunge alla ragione sotto forma di descrizione di un percepito. Dal momento che il senso principale dell'essere umano è la vista la vista sarà il senso il principale senso coinvolto nella contemplazione la contemplazione con gli altri sensi prevede l'annullamento della vista il chiudere gli occhi e il concentrare la propria attenzione sul senso coinvolto la vista interviene a formare la descrizione della ragione manifestando la forma degli oggetti che poi il dialogo interno descrive mediante le parole quella forma degli oggetti si fissa nella descrizione della ragione che continua a recitare la forma degli oggetti e delle situazioni ogni volta che guardiamo o immaginiamo alla fine del processo di soggettivazione mediante la descrizione della forma degli oggetti finiamo col mettere a fuoco solo quegli oggetti che descriviamo scartando dalla nostra visione gli oggetti o i fenomeni per i quali non abbiamo elementi con cui descriverli questo processo agisce anche nella forma pensiero e condiziona al stesso modo gli altri sensi umani di tutto quello che vi ho letto finora dal momento che il senso principale dell'essere umano è la vista fino e condiziona lo stesso modo gli altri sensi umani è il meccanismo fondamentale che va ad agire sulla manipolazione mentale esattamente noi lo capovolgiamo questo meccanismo per riuscire a rimuovere la manipolazione mentale che i cattolici hanno imposto su di noi l'elemento primo della manipolazione mentale che i cattolici hanno imposto su di noi è la nostra incapacità di comprendere i fenomeni del mondo che non rientrano nella nostra forma e nel nostro immaginato per esempio un albero è una cosa una forma fatta in un certo modo che deve funzionare in un certo modo ma perché l'albero sia quella forma che deve funzionare in quel modo io devo accettare di percepire certi fenomeni e devo rifiutare altri fenomeni la mia ragione la mia percezione annulla tutti quei fenomeni che non mi permettono di leggere l'albero in quella forma e in quella funzione pertanto ricordatevi questo le persone sono cieche davanti al mondo o alla vita non perché i fenomeni del mondo e della vita non si presentano a loro ma perché loro hanno scelto di non vedere quei fenomeni che la vita emana rispetto a loro in pratica alle persone viene imposta una struttura immaginativa della vita si dice la vita è questo e tutto quello che non è questo viene automaticamente annullato dalla vista dalla vista o dalla percezione dei nostri sensi un esempio molto grosso che abbiamo avuto noi per esempio quando iniziamo queste trasmissioni che abbiamo cominciato a dire che il Gesù di Nazareth era uno che praticava la pederastia applicava la pedofilia ebbene le persone non ci credevano e vennero in questa radio con la loro Bibbia chiedendoci di dimostrargli dove stava il passo ebbene quel passo gliel'abbiamo dimostrato che stavano i Vangeli e le persone hanno dichiarato che loro pur avendo letto i Vangeli un sacco di volte non si erano mai accorti di quell'aspetto ebbene questo fa parte della manipolazione mentale che hanno subito fin da bambini cioè in pratica ci si accorge di alcune cose si vedono alcune cose ma se ne scartano milioni e quello che noi scartiamo è infinitamente più grande di quello che noi percepiamo per riuscire a far entrare nel nostro condizionamento educazionale cioè nella nostra struttura emotiva quello che noi scartiamo serve un atto di forza o un atto strategico estremamente forte estremamente voluttuoso che modifichi quello che è la nostra ragione fin da bambini questo processo agisce nella forma pensiero e condiziona allo stesso modo gli altri sensi umani fin da bambini si impara a guardare un albero gli adulti incitano il bambino ad ammirare l'albero ad escrivere l'albero a disegnare l'albero questo processo di soggettivazione giunge ad un punto tale che le nostre emozioni vengono vincolate dalla forma che abbiamo maggiormente ammirato e che finirà per definire ciò che intendiamo per bello nell'attività di contemplazione è necessario imparare ad usare gli occhi facendo sparire la forma dell'oggetto contemplato allora facendo sparire la forma dell'oggetto contemplato qual è il problema che noi ci poniamo nella contemplazione nella contemplazione noi ci poniamo il problema di percepire l'oggetto che abbiamo davanti non per ciò che noi vogliamo che sia ma per ciò che l'oggetto è ora riuscire a percepire un oggetto per ciò che è e non per ciò che noi vogliamo che sia è in filosofia chiamato un assurdo è chiamato un assurdo perché nessuno potrà mai sapere come è l'oggetto che sia davanti o come sono le persone che siano davanti se volete usare il posto di oggetti le persone non è importante perché perché noi degli oggetti che abbiamo di fronte possiamo percepire solo un certo numero di fenomeni e quel numero di fenomeni costruisce in noi l'idea di quell'oggetto pertanto alla fine cos'è che facciamo quei fenomeni costruiscono in noi l'idea di quell'oggetto ma nell'idea di quell'oggetto ci mettiamo dentro parte di noi stessi cioè se io penso a una condizione di giustizia quando io vedo un oggetto in cui i fenomeni mi ispirano la condizione di giustizia io non penso non vado ad indagare ciò che è la condizione di giustizia dell'oggetto che ho di fronte ma su quell'oggetto proietto la mia condizione di giustizia ed è un trucco che viene usato sia dai pubblicitari sia dai politici cioè quando Berlusconi fa il il gruppo non so il polo delle libertà non vi ha detto cosa intende lui per libertà ma ha permesso che le persone immaginassero nella loro testa cos'è la libertà e la proiettassero sulla parola libertà che Berlusconi usava per il polo delle libertà cioè è un'operazione che viene usata sia dai pubblicitari sia dai politici in generale in pratica noi di un oggetto che abbiamo di fronte riusciamo a percepire un certo numero di fenomeni che è abbastanza limitato poi completiamo questa percezione che abbiamo degli oggetti proiettando su quegli oggetti delle cose che noi abbiamo dentro proiettando le cose che noi abbiamo dentro praticamente ci formiamo un'idea ma quell'idea non è reale perché perché i fenomeni che noi percepiamo di quell'oggetto sono fenomeni relativi sono fenomeni che potremmo anche elencarli uno dopo l'altro e ci accorgeremo che in fondo sono abbastanza pochi dopodiché su quell'oggetto proiettiamo la nostra idea la nostra idea che è maturata dal nostro condizionamento educazionale della nostra storia delle nostre trasformazioni per cui finiamo per credere che quell'oggetto usando quella parola o manifestando quel fenomeno voglia dire esattamente ciò che noi significhiamo e non ci preoccupiamo di andare a indagare su cosa lui vuole dire con questo e là nasce la fregatura delle persone allora nell'attività di contemplazione cos'è che noi vogliamo ottenere vogliamo riuscire a capire l'oggetto che abbiamo di fronte per ciò che è la cosa che noi possiamo fare per riuscire a capire l'oggetto per ciò che è è annullare sto parlando degli occhi per quanto riguarda la contemplazione la forma che quell'oggetto ci proietta praticamente noi priviamo quell'oggetto che noi contempliamo della forma che trasmette la nostra ragione come lo possiamo fare ci sono le tecniche ci sono tre sono le tecniche meccaniche nell'uso degli occhi che fanno da base alla contemplazione sdoppiamento delle immagini mettere a fuoco un punto vuoto fra osservatore ed osservato e ritirare la vista facendo pressione al centro della fronte queste tre tecniche ci permettono di osservare l'oggetto cioè di concentrare la nostra attenzione sull'oggetto però di distruggere la forma dell'oggetto sui nostri occhi ed è fondamentale questo perché la nostra capacità di proiezione di proiettare sull'oggetto le nostre idee a prioristiche cioè le idee che abbiamo noi dentro di noi sull'oggetto sono pilotate dai fenomeni che i nostri occhi che la forma la quantità percepiscono dell'oggetto stesso noi annullando quello che è la qualità dei fenomeni che giungono ai nostri occhi fermiamo di fatto anche la proiezione delle nostre idee a priori che abbiamo dentro di noi sull'oggetto per cui praticamente costruiamo una situazione molto strana all'interno della nostra ragione per cui stiamo guardando non so prendiamo un oggetto un albero però annulliamo la forma sdoppiandola e facendo sparire le immagini mantenendo però l'attenzione sull'albero cosa succede a questo punto dentro di noi ah noi non percepiamo più la forma dell'albero perché con gli occhi le abbiamo fatte sparire abbiamo sdoppiato al punto tale di portarla alla periferia dell'ottica e ne abbiamo annullato la forma B con questa operazione noi non siamo più in grado di proiettare la nostra idea sull'albero cioè quello che noi pensavamo dell'albero sull'albero C abbiamo bloccato il dialogo interno per cui abbiamo bloccato il flusso delle parole cosa ci resta a quel punto attenzione noi abbiamo sempre la vista sull'albero ci resta una cosa importante ci resta il flusso delle emozioni il flusso delle emozioni da noi all'albero e dall'albero a noi e questo è la tecnica della contemplazione nel paranesimo politeista con questa pratica nella sospensione del ego interno e nella meditazione spostiamo la nostra attenzione sui non oggetti l'albero diventa un non oggetto una parte dei fenomeni che concorrono a fornirci la descrizione dell'oggetto vengono annullati cancellati o alterati sicché siamo costretti a riconoscere un oggetto con una quantità e qualità diversa di fenomeni quando si forza la vista o un altro senso al posto della vista o in mancanza della stessa questo sforzo si trasmette in tutto l'individuo e travolge attraverso la necessità di adattamento che egli induce nella sua fisicità tutto il suo pensato tutto il suo descritto e tutto il suo percepito e attenzione quando parliamo della vista stiamo parlando in riferimento anche di un'area del cervello ricordatevi che l'area del cervello che viene coinvolta dalla vista è la stessa area del cervello che viene coinvolta dal tatto tatto e vista sono due sensi estremamente simbiotici uso questo termine non so però se sia giusto comunque l'uno e l'altro sono uguali ricordatevi che quando il nostro nonno era un essere unicellulare e stava nel brodo primordiale non è che non vedesse il mondo attorno a lui solo che non aveva gli occhi però aveva la pelle aveva il tatto per cui ricordatevi che tatto e vista vanno a incidere sulla stessa area cerebrale vale anche per il gusto vale per l'udito vale per l'odorato noi potremmo contemplare con gli odori con l'udito o anche con il gusto però voglio tralasciare questi aspetti non tanto perché non siano importanti tanto perché ognuno di questi aspetti richiede una tecnica precisa e quando qualcuno ha compreso come si contempla con la vista o in alternativa col tatto in realtà sa anche come si contempla col gusto con l'odorato e con l'udito quando si forza la vista o un altro senso al posto della vista o mancanza di essa questo sforzo si trasmette in tutto l'individuo e travolge attraverso la necessità di adattamento che gli induce nella sua fisicità tutto il suo pensato tutto il suo descritto e tutto il suo percepito la pratica costante di uno sdoppiamento delle immagini due mettere a fuoco un punto vuoto fra l'osservatore e l'oggetto tre ritirare la vista facendo pressione al centro della fronte con la sospensione del diario interno la pratica della meditazione la pratica dell'intento l'arte dell'agguato e l'attenzione e l'insieme delle pratiche del coraggio dell'ostragone permettono di ristrutturare il pensiero parentesi riattivazione o modificazione di parte del reticolato sinapsico chiusa parentesi permettendo a quanto ci circonda di interagire con noi permettendo a quanto ci circonda di interagire con noi negando la prigionia della forma che è alla base della descrizione la ragione è costretta a pescare da nuovi fenomeni e permette al contemplato di contemplarci e qua entriamo in una visione assolutamente pagana politeista permettere al contemplato di contemplarci noi abbiamo un mondo immenso di soggetti che costruiscono le loro strategie di esistenza e le loro strategie di vita e attraverso il condizionamento educazionale monoteista o se volete la manipolazione mentale o il lavaggio del cervello che fanno i cristiani ma anche i musulmani anche gli ebrei ai bambini noi veniamo separati dal mondo ma se noi siamo separati dal mondo non è che il mondo ci considera come soggetti all'interno del mondo il mondo c'è nulla cioè praticamente quando noi ci separiamo dal mondo e alziamo una barriera col mondo il mondo ha alzato una barriera con noi cioè noi per il mondo siamo solo dei virus dei batteri nocivi che rompono solo le scatole alla vita e che non sono utili a niente soltanto quando noi riusciamo a rimuovere quella che è la barriera che i monoteisti cristiani hanno imposto a noi allora il mondo ci osserva cioè allora diventiamo utili per il mondo diventiamo funzionali per il mondo e il mondo diventa funzionale per noi stessi allora solo in quel momento gli alberi le piante gli animali ci parlano solo in quel momento gli esseri del mondo ci riconoscono come parte del mondo e solo in quel momento riprendiamo il nostro posto all'interno del mondo ma ricordatevi quando gli uomini sono educati a costruire una barriera nei confronti del mondo e ritengono se stessi creati ad immagine e somiglianza del Dio padrone non fanno altro che alzare una barriera di separazione fra sé e il mondo ma il mondo stesso alza una barriera di separazione perché le cose sono sempre reciproche se io nego l'esistenza della vita la vita nega la mia esistenza continuerà le sue strategie di esistenza ignorando la mia presenza nel momento stesso che io riconosco il mondo e riconosco l'esistenza della vita e le sue strategie di esistenza in quel momento la vita costruirà le sue strategie di esistenza insieme a me in quel momento cominciamo a camminare assieme ed è l'elemento fondamentale del paganesimo politeista perché perché il paganesimo politeista concepisce un mondo fatto da dei che costruiscono i loro cammini nell'infinito dei mutamenti al contrario il cristianesimo riconosce l'uomo creato ad immagine e somiglianza del suo dio padrone del mondo e diverso dal mondo in quanto il mondo è creato affinché l'uomo ne sia il padrone non lo dico io leggetevi la bibbia pertanto col cristianesimo c'è la separazione fra l'uomo e il mondo con il paganesimo politeista l'uomo e il mondo diventano un'unica cosa e in effetti un'unica cosa eravamo nel brodo primordiale un'unica cosa eravamo mentre marciavamo nei milioni e milioni di anni che ci hanno separato dal brodo primordiale fino ad oggi permette al contemplato di contemplarci cioè permette al mondo di riconoscere la nostra esistenza come soggetti come specie e come individui come specie già si conosce ne abbiamo fatto di strage all'interno del mondo qui sarebbe da rimandare alla lettura del crogiolo nei quattro canti del mondo quattro canti del mondo l'incorsione dei quattro canti del mondo lo trovate in internet lo trovate su www.federajonepagana.it specialmente nei primi due capitoli due o tre capitoli si parla praticamente dei quattro canti del mondo dove i quattro canti sono il mondo quotidiano il mondo emozionale il mondo del gliopsichistico del soggetto che contempla è il mondo quotidiano il mondo della forma è il mondo degliopsichistico cioè delle emozioni del soggetto contemplato il contemplato diventa il contemplatore il contemplatore diventa il contemplato e i quattro canti si fondano in una sola visione dell'esistenza questo potete trovare appunto su www.federajonepagana.it o se volete cercare su google crogiore strago nei quattro canti del mondo perché c'è anche un altro sito c'è all'interno del collegio dei sani le relazioni in cui l'intuito del contemplato fluisce sul contemplatore sempre che il contemplato sia un essere della natura o con una parte come l'essere terra l'essere sole elementi dell'essere atmosfera eccetera contemplato a sua volta la contemplazione porta l'attenzione di chi contempla sull'astratto della ragione sdoppiare una pianta suocarla fino a farla sparire mantenendo su di essi la nostra attenzione porta a cogliere aspetti e considerazioni che la ragione considera astratte l'astratto è quanto la ragione reputa inutile è una cosa inutile per la ragione sviluppare il silenzio del dialogo interno mentre guardiamo la luce di un albero fuori fuoco o la sua forma viene fatta sparire da sdoppiare la vista la ragione si chiede perché questo individuo fa questo la ragione teme che l'individuo inizi a vivere in quella dimensione sensoriale che lei non è in grado di descrivere quello inutile è il ponte che conduce al reale della percezione al reale psichista anche se un reale in effetti non esiste in quanto il vero obiettivo non è giungere ad una nuova verità del mondo una nuova descrizione ma continuare a crescere e a trasformarci e questo sugli obiettivi ne potremmo parlare ancora per parecchio tempo dobbiamo parlare per parecchio tempo perché perché effettivamente l'unico obiettivo che è reale è la morte del corpo fisico cioè noi non è che riusciamo a raggiungere degli obiettivi di verità cioè quando qualche religione o qualche gruppo tipo sciamanesimo vi propina delle cose guardatelo sempre con molto sospetto perché in realtà l'arte è fondamentale è l'arte della vita cioè è l'arte del nostro quotidiano cioè è l'arte di vivere con passione con determinazione e con impegno e tutto questo è salvo per costruire il nostro corpo luminoso ma comunque noi andiamo a morire non esiste un'eternità all'ilà di noi stessi noi ci siamo altri continueranno c'è sempre altre generazioni che continuano ma per noi l'importante è questo è vivere con enorme passione ed è esattamente quello che noi dobbiamo fare pertanto quello inutile è il ponte che conduce al reale della percezione un reale della percezione che chiaramente non esiste perché perché levato il velo di maia dell'illusione ci sarà un altro velo di maia dell'illusione e sopra ci sarà un altro velo di maia dell'illusione ma ogni volta che noi leviamo un velo dell'illusione modifichiamo noi stessi non siamo più quelli di prima abbiamo fatto degli sforzi ci siamo cambiati ed è questo il vero nostro potere definiamo allora ciò che intendiamo per reale il reale è ciò che percepiamo per quello che riusciamo a percepire e nel quale organizziamo la nostra azione cioè la lettura soggettiva dell'oggettività nella quale esprimiamo la nostra volontà noi possiamo dire quanto percepiamo è oggettivamente reale non possiamo dire la forma di quanto percepiamo è oggettivamente reale noi possiamo dire quanto intuiamo è reale non possiamo dire la forma descritta del mio intuire è reale coincide con la forma soggettiva con cui descrivo la realtà noi possiamo dire quanto noi descriviamo è reale sia nel descrivere la nostra percezione soggettiva che la realtà dell'oggetto che io descrivo non possiamo dire come io descrivo l'oggetto è reale è il mondo nel quale agiamo illusoria è la descrizione e la limitazione che noi soggettivamente diamo al mondo in cui viviamo l'intuizione da un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo l'intuizione emerge da un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo in grado di descrivere e qui resta qualcosa di abbastanza grosso un attimo solo che mi ecco qua che mi corrego un attimino abbastanza grosso perché perché con questo passo l'intuizione emerge da un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo in grado di descrivere è la differenza che c'è fra un pagano politeista e mister il signor cicerone che parla della divinazione ma vi ripeto il discorso sulla divinazione è un discorso che ho affrontato adesso e che sto leggendo i libri di cicerone sono due libri sulla divinazione ho letto il primo sto affrontando il secondo tutto sommato sono anche abbastanza piacevole da leggere e stimolano anche parecchie riflessioni e vi assicuro che questa frase va a far saltare tutte le affermazioni di cicerone in effetti se io dico l'intuizione emerge da un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo in grado di descrivere tutto il discorso che fa cicerone sul destino il fatto che determina le posizioni del mondo le scelte del mondo per cui se il fatto e il destino ha stabilito ciò che succede al mondo qualunque cosa io decido comunque è stata decisa dal destino oppure in antitesi le cose possono succedere per caso per cui io non posso sapere ciò che avviene per caso ebbene questa dualità che costruisce cicerone nel suo divinazioni è una dualità che va saltata che non esiste che viene annullata perché perché io vivo in un mondo di cui ne descrivo solo una parte una parte minima non descrivo l'immenso che mi sta attorno ma l'immenso che mi sta attorno non è che non esiste l'immenso che mi sta attorno agisce costruisce le sue strategie e io non sono a conoscenza delle sue strategie perché la mia ragione non è in grado di abbracciare l'immenso ma la mia intuizione è in grado di abbracciare molte più cose che non la mia ragione il mio cervello profondo è in grado di elaborare fenomeni e cose diverse del mondo e allora qual è la mia strategia in stragoneria è quella di costringere la ragione ad ascoltare la parte più profonda del mio cervello quando io riesco a fare questo non divento un onnipotente ma divento più consapevole divento un illuminato se volete usare questo termine perché perché costringo la mia ragione ad ascoltare quella parte antica del cervello che è in grado di elaborare fenomeni che la mia ragione nemmeno considera pensa che non esistino li annulla perché perché la mia ragione purtroppo cosa deve fare deve costruire un terreno un terreno descrittivo nel quale io posso vivere la mia ragione tutto sommato anche se io sto facendo una guerra alla ragione in questo momento lei vuole salvaguardarmi vuole proteggermi perché perché l'immenso che mi sta attorno è talmente grande talmente grande che se mi si riversasse addosso io facerebbe un casino facerebbe un caos nella mia testa la mia testa non reggerebbe all'urto dell'immenso se vogliamo fare un paragone possiamo parlare di semele semele che venne amata da Zeus e dalla quale nacque Dioniso era era gelosa di semele e allora cosa disse era a semele chiedigli a Zeus di apparirti per ciò che è e non per come ti appare quando l'ha tratto assieme e semele cade nel tranello semele era una mortale e chiese a Zeus di poterlo vedere per ciò che è e non per ciò che lui voleva apparire e Zeus fu costretto ad accontentarla ma semele non fu in grado di reggere la vista del fuoco la vista dell'immenso e semele si bruciò solo era solo i suoi occhi d'aquila possono reggere la vista di Zeus e allora in quel momento mentre semele stava bruciando accorse veloce Hermes e gli strappò il bambino dal grembo quando ancora era feto e lo ricucì nella gamba di Zeus affinché crescesse quel bambino si chiama Dioniso pertanto la nostra ragione ci protegge da questo ci protegge dalla visione dell'immenso però noi sappiamo che l'immenso esiste e l'immenso può essere messo al nostro servizio e dice ecate perché mi chiamasti e mi legasti con cateni perché voglio sentire la tua voce e con questo io mi fermo qui nella trasmissione di questa sera vedo che c'è Stefano se Stefano vuole entrare può entrare e darò via a qualche telefonata la contemplazione vi ricordo che è l'arte di riconoscere l'immenso che ci sta attorno e di poter costruire un canale di dialogo fra noi e l'immenso numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno non è pronto ciao Gia Paolo ciao Claudio mi è piaciuto immensamente il fatto delle ultime definizioni che hai dato di sapere relativamente un po' alla volta quello che vogliamo e quello che noi anche desideriamo sapere per noi altri poi l'immenso non abbiamo la benzina per arrivare non è impossibile ma per il momento non abbiamo la benzina per arrivare a me è piaciuto moltissimo questo modo di ragionare calmo tranquillo e non assolutista assolutamente non assolutista bellissimo bene ciao ciao Gian Paolo ciao ciao pronto ciao ciao veramente sono accordo con Gian Paolo niente sei cicerone prossima volta ti hai detto no non so comunque sarà uno dei miei impegni sono fuori testa cioè nemico miliardi di cose da fare no perché oggi ti hai fatto una bella dissertazione su Suarez Marte no non vorrei che avesse minimizzare ma scherzi ma scherzi perché veramente non esiste è grandioso insomma come anche come con Papa veramente mi è stato io ma li vedo a terra ancora noi i libri diciamo poca roba però c'è la divinazione di cicerone vuole la natura sulla natura degli dèi sulla natura degli dèi sì qui ho fatto un lavoro sul proposito del pontefice Cotto che parlava delle delle tre cose che gli antichi gli hanno lasciato ho messo in internet un lavoro anche abbastanza corposo diciamo come si chiama il pontefice Cotta no no ma quello di prima che mi hai chiesto se c'ho il divinazione della divinazione sulla divinazione della divinazione di cicerone sono due libri abbastanza brevi vediamo un attimo se riesco a verlo comunque sono molto piacevole da leggere è un regalo che mi ha fatto mia figlia no Dea Garzanti vediamo un attimo Dea Garzanti del 99 insomma abbastanza trovabile e mi ha regalato no anzi del 2001 la quarta edizione per cui è anche abbastanza presto mi ha regalato mia figlia sono brevi da leggere piacevolissimi perché sono pieni di aneddoti no c'è anche delle statue che sudano una roba di questo genere non c'è qualcosa mi ha detenuto conto di aneddoti di aforismi qualcosa abbiamo che cerca perché con tutto iniziamo beh immagino sai ma è che la mia libreria è fatta a strati sai ogni tanto dirò fuori strato dietro ma è pazzesco ma sì ho cercato un libro un go mi ho messo tre ore va bene allora mi piace la trasmissione Stefano ciao buona giornata ciao ciao bene io chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo vi do appuntamento per giovedì prossimo naturalmente la seconda parte della trasmissione continueremo sulla contemplazione e poi tutto il resto andremo avanti è chiaro che è un casino voi fate conto che praticamente noi stiamo per concludere il nonno anno di trasmissione ma sapete quanto materiale vi abbiamo preparato in nove anni di trasmissione io da solo ho scritto oltre 23 libri per presentarvi in radio fate un po' conto quanto lavoro che ho fatto e comunque intendo continuare a farne ancora e con tante altre sorprese che un po' alla volta arriveranno naturalmente lavoro in fonderia per cui faccio quello che posso ciao a tutti a risentirci a giovedì prossimo e vi lascio con Stefano dopo di me ciao 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 a tutti